Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, oggi vi mostrerò come ottenere sciocchezza feroce l'arco del trono mondo di Savatun. Dovete sapere che questa arma è soltanto droppabile in sorgente attacco per poi poterla forgiare e modificare con i vari perk. Piccola informazione, dovete sapere che questa modalità cambia ogni giorno alle 18 del pomeriggio in difesa o attacco. E ci sono due modalità attacco e due modalità difesa. Per capire qual è quella che vi serve dovete leggere la descrizione che ha e da lì capirete che cosa droppate a fine evento. Nel caso nostro se volessimo avere sciocchezza feroce nella descrizione attacco ci dovrà essere scritto Impedisci a Borgong custode della fonte di completare il rituale sorgente. Quindi ora ricapitolando dovremo avviare sorgente attacco dopodiché atterreremo e per partire ci basterà semplicemente sparare ai cristalli dopo aver preso la bandiera. Il primo step consisterà nel far pulizia arrivare verso il fondo, uccidere il portatore di luce che ci permetterà di far comparire dietro di noi gli ascensori per salire su. Una volta che saremo arrivati sopra per avviare il secondo step dovremo liberare la piramide e scortarla. Ogni tanto comparirà un cristallo che dovremo distruggere per farla avanzare e far scomparire gli aghi blu da terra che ci faranno male. Una volta che arriveremo in fondo la piramide farà scomparire i cristalli per farci passare dalla porta. Dopodiché per il terzo step dovremo sparare ai cristalli che troveremo al centro e questi ci daranno accesso a tre stanze diverse con una magliarda. Noi dovremo soltanto posizionarci dentro il cerchio per levare lo scudo alla magliarda. Una volta che lo scudo sarà abbassato potete uccidere la magliarda che lascerà per terra una pallina. Questa dovremo raccoglierla e depositarla al centro e questo lo dovremo fare per altre due volte. Dopo che avremo depositato l'ultima pallina quello che dovremo fare per avviare lo step finale sarà sparare ai cristalli che leveranno lo scudo a Borgong e facendo questo già da subito avvieremo una fase di danno. Finito il danno Borgong riavrà lo scudo e per levarglielo ci basterà semplicemente uccidere la magliarda che ci lascerà per terra una pallina e dovremo depositarla al centro. Facendo questo avvieremo di nuovo la fase di danno e questo lo dovremo ripetere per ben due volte. Una volta che avremo sconfitto Borgong spawnerà la cassa e qui dovrà andarvi di fortuna. Ma rispetto ad anazione e accadimento sarà più facile da droppare sciocchezza feroce da affinare dato che è un drop comune e compare facilmente. Nel caso in cui non vi sia uscito ritentate altre volte fino a quando non lo droppate. Una volta che l'avremo droppato dovremo equipaggiarlo per poterlo affinare. Dovete anche sapere che per poi poterlo creare alla forgia ve ne serviranno tre da affinare. Quindi il metodo più veloce per affinare le armi in generale è completare 20 e partite. Quello che io vi consiglio è di continuare a fare sorgente attacco così affinerete l'arma e in più avrete la possibilità di trovare un altro sciocchezza feroce da affinare. Una volta che avremo affinato per tre volte sciocchezza feroce avremo la possibilità di andare alla forgia e crearcelo per poi livellarlo e in seguito mettergli tutte le perk che vogliamo. Il video termina qui ragazzi spero di esservi stato di aiuto nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale così vedrete altri contenuti che porterò a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi.